8 marzo, festa della donna, come consuetudine il Comune di Tolentino promuove una serie di iniziative per celebrare questa giornata che ha diversi significati. In maniera particolare si vuole analizzare la donna a 360 gradi ma si vuole parlare tutto l'anno. Sì, naturalmente questo è quello che come Commissione pari opportunità del Comune dove io faccio parte insieme alle altre consiglieri e assessori. Parlo di Silvia Luconi, parlo di Giuliana Salvucci, parlo di Jacqueline Cesaretti e naturalmente di Loretana Riccio che non sono potute essere oggi qui ma che comunque hanno organizzato insieme a noi questo evento. Una giornata che la vogliamo dedicare non solo a noi donne ma soprattutto a tutti gli uomini e coloro che ci vogliono bene, che ci amano, che ci stanno vicino e che riconoscono comunque il valore che mettiamo tutti i giorni in quello che facciamo e non solo nella famiglia ma nel lavoro, nella società. Quindi un momento da dedicare proprio a sviscerare questo nostro valore nella società. Quindi un flash mob dedicato a tutti i ragazzi, non solo le ragazze ma anche i ragazzi che insieme alle ragazze devono formare questa società, la società del futuro. E poi una tavola rotonda nel pomeriggio alla Biblioteca Filelfica dove parleremo di benessere, della donna e del suo benessere, quindi di psiche e di maternità. Ne parleremo con due dottori che prenderanno parte a questa tavola rotonda e moderatrice dell'incontro sarà la dottoressa Jacqueline Cesaretti. Quindi un bel momento da dedicare a tutte le donne ma che soprattutto si rivolge non solo alle donne ma anche agli uomini.